Crepe, calcinacci staccati dalle terrazze, materiale di risulta abbandonato, Eternit non bonificato, muri anneriti dalle infiltrazioni. E' lo scenario un postile favelas che si schiude davanti a chi decide di addentrarsi nei palazzi popolari di via Siracusa, al numero 83 di Intorni, nella 167B di Lecce. A volte può diventare rischioso camminare nei paraggi. C'è il pericolo che si stacchino calcinacci. L'avvocato del Sunia, Carlo Mignone, ci fa strada in un girone infernale fatto di muri ammuffiti e pieni di crepe e sulla terrazza ci mostra il pezzo forte. Un pezzo di muro staccatosi per fortuna dalla parte giusta e non dal lato della strada. Come potete vedere qui abbiamo un pezzo, nonostante si sia intervenuti per la messa in sicurezza, evidentemente non tutto è stato fatto, visto che mi sembra evidente anche un non tecnico che da un momento all'altro questa parte potrebbe venire giù. Alcuni condomini cercano di arrangiarsi come possono, puliscono il terrazzo e cercano di combattere l'umidità con interventi sporadici. Le canne fumarie sono tutte in Eternit che diversi anni fa vennero dall'istituto per la sostituzione, ma si sta parlando di 10-15 anni fa e poi non si sono più visti. Cioè sono rimaste... Sono rimaste come stanno. Hanno fatto il sopralluoco per sostituire tutte le canne fumarie in Eternit e non si è più visto nessuno. Hanno gettato... Sono ancora in Eternit le canne fumarie? Le canne, eccole, sono lì. Sono lì. E quindi... Dovevano sostituirle da 15 anni? Ah, dovevano sostituirle circa 15 anni fa. Quando venne il sopralluoco, vennero due dell'istituto, presero le fotografie che dovevano sostituire questi Eternit e non si è più visto nessuno. Eppure lo IACP si è mosso e intervenuto per mettere in sicurezza l'edificio su segnalazione del Sunia, ma ha dimenticato il materiale di risulta sul marciapiede, a fare compagnia a erbacce e rifiuti vari. L'avvocato Mignone avverte che gli interventi non sono sufficienti. Sì, sono stati fatti degli interventi dopo varie sollecitazioni sia degli inquilini che da parte dell'amministrazione. Sono stati fatti degli interventi per la messa in sicurezza di alcune parti dell'immobile, ma ci sono tantissime altre parti sulle terrazze e in tutta la palazzina che invece costituiscono un pericolo al quale lo IACP non ha posto assolutamente rimedio, continuano a costituire un pericolo per la cittadinanza e per gli inquilini stessi. Nel novembre del 2012 già c'è stato un intervento del settore urbanistico, un ufficio pubblico in columità che ha ordinato sia naturalmente all'amministratore per le proprie competenze che naturalmente all'ingegnere albanese che è il dirigente del servizio dei lavori dell'OIACP di fare dei lavori per la messa in provvisoria e per la messa in sicurezza e successivamente però dice anche che a questi lavori dovranno fare seguito i lavori definitivi che il caso richiede, cosa che al fine di ripristinare le originarie condizioni di sicurezza e legibilità. Tenendo presente che qui molti assegnatari vivono in uno stato che secondo me non è da essere umani, ci sono persone che soffrono di varie patologie e sono costretti a vivere in ambienti di umidità perché queste situazioni possono forse ma creano voglio vedere le infiltrazioni quindi le case sono completamente nere, completamente piene di umido, di muffe e di quant'altro. Poi ci sono gli interni. Nella casa di quest'uomo con evidenti problemi di salute i muri sono neri, infiltrazioni e umidità hanno trasformato in un calvario la sua ultradecennale permanenza in questa abitazione. Mi avevo potuto un altro rischio di lumbale che adesso mi devo fare operare nel 2014 proprio per questo ho fatto qua, per questa umidità che c'è in questa casa l'ho presa e mi ha rovinato. Sono trent'anni. Abbiamo fatto domande, contro domande, siamo mandati la settimana scorsa all'istituto e hanno dato questo fatto qua di mandare gli operai per lavorare sulla loggia, per fare mezzi dalla guaina, questa volta la guaina, non la pittura ma la guaina. Qua l'inverno dobbiamo andare a ciudere per terra. Anche qui l'OIACP è intervenuto. Per l'avvocato del Sunia, però, si tratta di pagliativi, ci vuole un intervento strutturale più incisivo. Dall'OIACP fanno sapere che accolgono tutte le segnalazioni, esiste anche un numero verde e cercano di intervenire tempestivamente. Tutti i problemi evidenziati in questo servizio troveranno una risposta a breve, ci dicono, una volta fatte tutte le verifiche e consultato l'ufficio tecnico. Grazie a tutti.